Prima, queste O, li mettiamo dopo. Allora, per curiosità, ho voluto provare il dipolo per la banda dei 40 metri, il dipolo NUC. Esci, ma con uno skip cortissimo, proprio perché non sono riuscito a metterla fin alto. Verticale, avevo proprio l'intenzione di utilizzare esclusivamente la verticale, di uscire dai confini nazionali e infatti così è stato. Ho messo lo spot nel gruppo I Love QRP e infatti mi hanno detto, sentiamo i corrispondenti, ma te nulla. È una scusa, non mi vogliono parlare, ce l'hanno con me. La giornata è estremamente variabile, non è nuvoloso, è nebbia. L'aria umida che arriva dalla Liguria, dalla Toscana anzi, di là, risalendo fa questo bellissimo scherzo. Mi trovo su Monte Fabei, Italia Tango Oscar 017, circa poco meno di 1500 metri di quota. Stagione invernale, le piste, se c'è la neve, sono aperte e pensavo che, visto che stanno facendo manutenzione qui agli impianti, di avere dei disturbi in banda, invece fortunatamente niente. Raccolgo la mia roba, se il bar è aperto, perché qui ragazzi non lo so. Amo la Liguria per le cose che i bar sono sempre aperti, belle indice. Qui si vede che ce l'hanno grassa. Se il bar è aperto, prendo un gotto e poi vado giù. Ho un bel pezzo di strada sterrata, quasi quasi monto l'action camera sul casco. Allora, dicevo, la configurazione della verticale l'ho già tolta perché passavano i fungaioli. La configurazione della verticale è molto semplice, è lo stilo della MFJ, quello di 5,40 metri circa. Alla base sono 5 radiali di 5 metri circa, che fanno da contrappeso. Non sono tarati, ho preso più o meno la lunghezza dello stilo della verticale e l'ho replicato sui radiali. La taratura non è mai stata necessaria, oros 1 a 1.1, quindi è perfetto, su tutta la banda dei 20 metri. Come dicevo, contatti esclusivamente fuori dall'Italia, extra italiani, a parte un Italia November 3, se non ricordo male, che è un nominativo che ho già sentito. Mi scuso se non mi è sovenuto subito. Mi sembra qualcosa dalla Norvegia, la solita Polonia e poi gli affezionati della banda. Stranamente nessuno spagnolo. Il posto è tranquillo, c'è la stagione dei funghi e infatti poi vedrete lungo la strada quante macchine. Secondo me c'è più macchine qua oggi che a Parma, in tutta Parma. Raccolgo, pulisco, lascio il posto meglio di come l'ho trovato, rego l'aurea e vado giù. 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e come al solito è il quasi che mi frega e a seguire il QSO. 73. Roger, Golf 0, Papa, Lima, Papa. Your report is 5859, reference SOTA, Italy, Tango, Oscar, 017. QSL. Ok, roger, roger. Thank you for 017. My call sign is Golf Whisky 0, Papa, Lima, Papa. And your 5x5 55 on the west coast of Wales, over. Roger, roger. Sorry, my friend. Golf Whisky 0, Papa, Lima, Papa. I confirm your report, 5859. Good weekend. Back to you. Hotel Alpha 7, Whisky 0, Papa. 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 Hotel America 7, Washington, America. Roger, roger. Roger, my friend. Hotel Alpha 7, Whisky 0, Papa. Your report is 5959. Back to you. Roger, 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 roger. Good morning. Thank you very much. 5959. You are 5957. 57. Grazie, ciao, ciao. Grazie, grazie. Buon fine settimana. Good weekend. Bye bye. Foxtrot 4, Whisky Bravo November. Oh, bonjour. Foxtrot 4, Whisky Bravo November. 5959. Back to you. Roger, roger, roger. Alessandro. Buongiorno. 5959 also. Very nice. Roger, my friend. Roger, my friend. Reference Sota. Italy Tango Oscar 0, 1, 7. Thank you, my friend. Bye bye. Good weekend. Roger, Sierra Papa 6, Kilo, Echo, Papa. Roger, Sierra Papa 6, Kilo, Echo, Papa. 599, QSL. Good morning, Alessandro. 599, anche te. Buona giornata. Buon weekend. Ciao, grazie. Ciao, grazie per il QSO. Buon weekend. Ciao. Hotel Golf 7, Whisky Foxtrot, Mexico. Whisky Foxtrot, Mexico. Over. Hotel Germany 7, Whisky Foxtrot, Mexico. Thank you. Good morning. You are 5757 here in Hungary. And this is Peter. Peter from Budapest. Over. Roger, roger. Your report is 5859. 5859. Please repeat your call. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. And good luck for the activation. Italy Zulu 4, Victor, Sveve, Sierra. This is Hotel Golf 7, Whisky Foxtrot, Mexico. Roger, roger. Ottengo. 7, Whisky Foxtrot, Mexico. Reference OTA, Italy Tango Oscar 017. Thank you and good weekend. Bye bye. Thank you. Bye bye. 73. Savona 577, Savona. Savona 577, Savona. Savona 577, Savona. Roger, roger. Savona 577, Savona. Sierra 57, Sierra. 555 your report. QSL. QSL. 3x3. 3x3. Thank you. Thank you to you, my friend. Bye bye. 73. Roger, Francia 5, Papa, Ienchi, Italia. Roger, Francia 5, Papa, Ienchi, Italia. Roger, Francia 5, Papa, Ienchi, Italia. 5,9. Grazie da 5,9. 655, 73. Saluti, ciao. Ciao, 73. Buon fine settimana. Golf 4, Oscar Bravo, Kilo. Golf 4, Oscar Bravo, Kilo. 5,9. Good morning, Alessandro. I said 4BQS. You are 5 and 6. 56 with QRM. Over. Roger, roger. Your real report is 5,9 plus, plus. 5,9 plus, plus. Working condition, 5 baht. QRP station. Referent Sota, Italy. Tango, Oscar. 0, 1, 7. QSL. Roger, roger. Thanks for the nice report, Alessandro. 73. Ciao, ciao. 73, my friend. Good weekend. Bye, bye. For Sierra, Quebec, 9. Charlie, Whisky, Ontario. Sierra, Quebec, 9. Over. Sierra, Quebec, 9. Charlie, Whisky, Oscar. Very good morning, Alessandro. 5 by 7. 57, roger. Roger, roger. Sierra, Quebec, 9. Charlie, Whisky, Oscar. Your report, Real, 5,9. 5,9. Thank you, my friend. Good weekend. Thank you. Good luck. Italia, Norvegia, 3. November, Juliet, Bravo. Italia, Norvegia, 3. November, Juliet, Bravo. Roger. 5,3. 5,3. 5,3 sul fondo. Roger, ti passo la referenza 0,17. Italia, Tango, Oscar, 0,17. Secondo me funzioniamo perché siamo in ottica. HI. Ciao, buon fine settimana. Ciao, buon fine settimana. 4, Oscar, 3. Radio, radio. Radio, radio in the call. 4, Oscar, 3. 4, Oscar, 3. Radio, radio. Roger, roger. 4, Oscar, 3. Radio, radio. 5,9. Your report, my friend. 5,9. Your report. Referenzota. Italy. Tango, Oscar. 0,17. Thank you, my friend. Good weekend. Roger, Alessandro, Italy, Tango, Oscar. 1, 0,17. 5,9. 5,9. For you. Grazie. Buona giornata. Ciao. Ciao, 73. Buon fine settimana. Ciao, ciao. Lima Alpha 2. India. Mike, Alpha. Lima Alpha 2. Complete your call. Lima Alpha 2. India. Mike, Alpha. 5,9. Over 20. 5,9. Over 20. 5,9. Over 20. Your report, my friend. Referenzota. Italy. Tango, Oscar. 0,17. Questal. Yeah, roger, roger. You are 5 and 5. 5 and 5 into the southern east part of Norway today. Thank you and enjoy the soda. 7,3. Sierra. Sierra, Quebec, 9. Over. Sierra, Quebec, 9. Over. Sierra, Quebec, 9. Mike, Delta, Florida. Portable. 5,5. 5,5. Lima Alpha. 5,5. Lima Alpha. 5, Whisky, November Alpha. Lima Alpha. 5, over. Lima Alpha. 5, Whisky, November Alpha. Your report is at 5,9. Over 20. 5,9. Over 20. Referenzota. Italy. Tango, Oscar. 0,17. Please, a question. Your power, please. 100 watts vertical antenna. 100 watts vertical antenna. Yeah, you are 3 by 2. 3 by 2. Thank you very much. Have a nice day there in 73. Bye bye. 73, my friend. Good weekend. Bye bye. No, in più ho finito di mangiare, mi fumo la sigaretta con la barista. Ciao Claudio. Ciao.